eccomi qui io sono il sergente magicolo e oggi vi faccio vedere come si vince a forza 4 allora questo l'ho messo di ma io la devo mettere qui attenzione vuole attaccarmi con l'effetto grattacielo oddio mi stava fregando voleva costruire l'antenna della morte ma io lo fregherò con una mossa incredibile attenzione fatemi pensare così no 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 così rischio altro che così quello metterà lì e c'è un 4 che rischio ha vinto mannaggia la miseria aveva avrebbe vinto avrebbe vinto meglio così ora ora sono nella merda bene che cazzo fai faccia così mi sta letteralmente distruggendo e che cazzo facciamo così ha perfetto dimentichiamo solo questo video